Quando parliamo di passivo in tedesco, passiv, abbiamo il passivo con verden, quello che conosci già, passivo che hai imparato finora, verden più participio passato, e poi abbiamo un altro tipo di passivo, è quello con il verbo essere, sein plus particip perfect. Il primo, quello con verden, si chiama in italiano passivo d'azione, in tedesco vorgangspassiv, quello con verden, quindi das geschäft wird um neun uhr geöffnet, il negozio viene aperto alle nove. E poi abbiamo quello con il verbo essere che si chiama passivo di stato, zustandspassiv in tedesco, das geschäft ist geöffnet, il negozio è aperto. Notiamo che è una piccola parolina, che differenzia il passivo d'azione e il passivo di stato, è appunto il verbo verden, oppure il verbo essere. Wird geöffnet und ist geöffnet. Che differenza c'è tra? Das geschäft wird geöffnet e das geschäft ist geöffnet. Wir sprechen von öffnungszeiten, parliamo di orari di apertura. Vedete, il negozio alle nove apre, alle otto quindi è chiuso. Das geschäft öffnet um neun uhr. Um achtur ist das geschäft geschlossen. Vedete, qui abbiamo la frase alle otto, il negozio è chiuso. Apre appunto le nove, quindi alle otto è chiuso. E qui abbiamo ist geschlossen, abbiamo il verbo essere e poi in fondo alla frase abbiamo il participio passato, geschlossen, è chiuso. Qui abbiamo il passivo di stato, indica appunto qualcosa che è in una determinata situazione, uno stato, una condizione. Parliamo quindi in tedesco di zustandspassiv, situazione, stato. Adesso questa signora, che si chiama Anna, è quella che apre il negozio e anche quella che chiude il negozio. Quindi qualcuno deve farlo. Ecco, se adesso noi diciamo che il negozio appunto viene chiuso da questa signora, um achten uhr wird das geschäft von Anna geschlossen, dovremmo utilizzare appunto il passivo d'azione. Perché appunto succede qualcosa, non si descrive più solo quello che è, ma quello che succede in quel momento. Ecco, quindi abbiamo un processo, un'azione. Vedete, vorgangspassiv in tedesco. Nella prima frase abbiamo, alle 18 il negozio è chiuso. Non ci interessa chi ha chiuso il negozio, niente. Nella seconda frase invece abbiamo, alle 18 il negozio viene chiuso da Anna. Quindi sappiamo che succede qualcosa, cioè viene chiuso e poi viene anche detto da chi. Non sempre per forza devo dire da chi, ma in questo caso appunto abbiamo un'azione che avviene in quel momento. Mentre nella frase precedente, il negozio è chiuso, descriviamo semplicemente una situazione, ma non ci interessa chi ha aperto o chi ha chiuso. Useremo quindi il passivo d'azione, se c'è un'azione, quindi. Vorgangspassiv, qualcosa che succede se c'è qualcuno che fa questa cosa. Si usa Verden, più partecipio passato. Vediamo qui questa bambina, no? Che apre la finestra. La finestra viene aperta dalla bambina. Das Fenster wird von dem Kind geöffne. Vedete che c'è una bambina che cerca di aprire questa finestra. Quindi qui ci interessa appunto questa azione dell'aprire la finestra. Wird geöffnet. Poi possiamo anche dire da chi, von dem Kind, dalla bambina. Ecco qui invece l'operazione inversa. La finestra viene chiusa. Das Fenster wird geschlossen. Vedete che la deve spingere. Wird geschlossen. Ecco qui non diciamo von dem Mädchen, potremmo anche dirlo. Das Fenster wird von dem Mädchen geschlossen. Qui abbiamo un'azione da parte dei due bambini. Da una parte appunto la bambina cerca di aprire. Nel secondo caso la bambina invece cerca di, la ragazza cerca di chiudere. Quindi abbiamo il passivo d'azione. Succede quindi qualcosa e c'è qualcuno che fa qualcosa. Mentre nel secondo caso, nel caso appunto del passivo di stato, indichiamo una Zustans. Cioè una condizione, una situazione, qualcosa che è già lì. Non ci interessa chi ha fatto che cosa. Come il fatto, per esempio, di trovare la finestra chiusa o trovarla aperta. E diciamo quindi, das Fenster ist geschlossen. La finestra è chiusa. Qui non ci interessa chi l'ha chiusa. Quindi vedete, la differenza è proprio questo verbo. Wird o ist, più participio. Se abbiamo Wird, indichiamo appunto il passivo d'azione. Quindi chi poi ha compiuto qualcosa, l'azione che è avvenuta. Mentre nel caso di un passivo di stato, ci interessa il risultato finale fondamentalmente. Nel passivo d'azione abbiamo quindi verde, in più participio passato. Vorgang, spassi. Vorgang. Ecco, la parola vorgang deriva dal verbo vorgehen. Succedere. Was geschieht ihr? Was geht ihr vor? Was ist geschehen? Che cosa succede? Ecco, vorgehen vuol dire succedere. Was passiert ihr? Was passiert ihr? Vedete? Was passiert? Che cosa succede? Das Tor wird geschlossen. Was passiert? Das Tor wird geschlossen. Quindi wird von dem Kind, vom Jungen, oder von dem Kind, vom Kind geschlossen. Quindi das Tor, questo portone, das Tor wird geschlossen. Qui abbiamo questo vom Kind, che ci indica appunto la persona che appunto ha chiuso la porta. È il complemento da gente. Non è obbligatorio, ma se vogliamo indicarlo appunto metteremo von più dativo. Das Tor wird geschlossen. Quindi nel vorgang passiv, nel passivo d'azione, avviene qualcosa, succede qualcosa, ecco c'è questo verbo, vorgehen, succedere, accadere, ed è importante appunto la persona, perché qualcuno deve aver fatto questa cosa. La coniugazione appunto del nostro passivo d'azione è semplicissimo, verden, più partecipio passato, dobbiamo quindi coniugare il verbo verden. Quindi das Fenster wird geschlossen, la finestra è chiusa o viene chiusa, dovremmo coniugare verden al preteritum. Quindi das Fenster wurde geschlossen. Ecco, per il perfect, attenzione, ma anche per il plus con perfect, dovete fare attenzione, perché non è geworden al passivo. Non dobbiamo dire ist geschlossen e poi geworden, no, assolutamente, ma soltanto worden. Quindi al passivo ci sono due forme per il participio di verden, una è geworden, che si usa quando appunto abbiamo il verbo diventare, mentre quando usiamo il passivo useremo soltanto worden. Quindi ist, participio, tra l'altro il ghi c'è già al verbo, vedete geschlossen e poi non si mette più al secondo. Il plus con perfect, stessa cosa, era stata chiusa, war, dobbiamo semplicemente mettere il preteritum di ist, abbiamo il plus con perfect, war geschlossen worden. E sarà chiusa, dovremmo appunto mettere verden più infinito, in questo caso ancora verden, quindi das Fenster wird geschlossen werden. L'altro tipo di passivo invece è il passivo di stato. Vedete il nostro portone, che in questo caso è chiuso, non sappiamo appunto chi l'ha chiuso e non ci interessa. Quindi descriviamo la situazione finale. Zustands passiv, passivo di stato, la situazione. E abbiamo quindi das Tor ist geschlossen. Vedete, l'hanno appoggiato, l'hanno chiuso, se poi lo chiudono con il lucchetto avremo il verbo abgeschlossen, das Tor ist abgeschlossen. Qui tenere chiusa la porta, spesso si trova anche sui cartelloni, vedete. Altenzi das Tor geschlossen, tenere chiuso appunto il portone, vedete. Qui abbiamo quindi il verbo essere più participio passato. Ecco, in questo modo viene formato appunto il passivo di stato. Ecco, vediamo anche qui la coniugazione a tutti i tempi del passivo appunto di stato con il verbo essere. Devo coniugare quindi il verbo essere. E' semplicissimo, quindi al presente avrò ist, quindi ist geschlossen. Al preteritum avrò war, quindi di tür war geschlossen. Prima era wird geschlossen, wurde geschlossen. Al perfek, ricordatevi, vi ricordate, era ist geschlossen worden. Adesso diventa di tür ist geschlossen gewesen. Al pluskamperfecht, basta che metto ist in vare, è uguale, di tür war geschlossen gewesen. Prima era, invece, di tür war geschlossen worden, vi ricordate. Il futuro sarà chiusa, di tür wird geschlossen sein. Ecco, qui abbiamo adesso qualcuno che sta chiudendo la bici, la sta chiudendo con un lucchetto, vedete. Das Fahrrad wird abgeschlossen, abbiamo il nostro passivo d'azione, che abbiamo visto già prima, e in tedesco abbiamo il vorgangspassive, quindi l'azione, il processo qui è importante, no? Potremmo anche indicare das Fahrrad wird von mir, von Peter, eccetera, abgeschlossen. Possiamo indicare anche il complemento d'agente. Ecco, in questo caso abbiamo ancora una bici chiusa, ma qui con tantissimi lucchetti. Ecco, qui vedete, qui non sappiamo, appunto, chi l'ha fatto, perché effettivamente non è che è una cosa normale, no? Mettere tipo 4 o 5 lucchetti, però vabbè. Das Fahrrad ist abgeschlossen. Quindi questo indica, appunto, una bici chiusa. Non sappiamo chi l'ha fatto, indichiamo qui, appunto, la situazione finale. Substanz passive, quindi passivo di stato, la situazione finale. Qui abbiamo una situazione di un documento che è in stampa. In tedesco Word, per esempio, dice Die Datei wird gerade gedruckt. Adesso io ve l'ho formulata con The Text. The Text wird gerade gedruckt. Viene, appunto, stampato, è in stampa. Ecco, anche qui abbiamo questo nostro passivo d'azione. Sta succedendo in questo momento. Vediamo ora altri esempi di passivo d'azione, ma in computer wird gerade ripariert. Il mio computer viene riparato. In questo momento, quindi qualcuno lo sta riparando. Wird vom techniker ripariert. Oder von einem Experten. Mein Auto wird gerade ripariert. La mia Auto viene riparata. Si, ist in der Autowerkstatt. Wird wahrscheinlich von einem Mechaniker ripariert. Die Prüfungen werden von der Lehrerin korrigiert. Oder vom Lehrer korrigiert. Qui abbiamo la persona, appunto, che corregge. Il docente e la docente. In questo caso, una docente. Der Kuchen wird gerade von meiner Mutter gebacken. Quindi la mamma, che in questo caso cucina la torta al forno. Der Kuchen wird gebacken. Quindi viene infornato per essere cucinato. Quindi abbiamo, in questo caso, anche qui, il passivo d'azione. Die Toiletten werden gerade ge putz. Qui non abbiamo indicato chi, da qualcuno. Abbiamo anche il passivo d'azione. Ho messo il grade, ma potrei anche non metterlo. È per solo capire che avviene in questo momento. E quindi qualcosa che avviene nel momento in cui si descrive l'azione. Ecco, in questo caso, appunto, parliamo di passivo d'azione. Vi può magari aiutare, no? È qualcosa che avviene in questo momento. E quindi, appunto, abbiamo Verden più participio passato. Può avvenire anche in questo momento nel passato. Possiamo immaginarci qualcosa che è avvenuto ieri. Però, mentre lo descrivevo, appunto, avveniva in quel momento. Ecco, qui ne abbiamo il nostro passivo d'azione. In tedesco, appunto, Forgangspass. Indica, quindi, un processo, un'azione. Ecco, qui abbiamo una situazione molto particolare. Devo innaffiare una pianta, la pianta. I folti di Plante Gissen. Abba, Sivaschung, che cosa? Ma quando sono arrivata, ho visto che era già, appunto, innaffiata. Qualcuno l'aveva già fatto. Qualcuno o qualcosa, vedete? Adesso, vedete, capirete. Qualcosa è già avvenuto. Vedete che è già molto... Ha già ricevuto a molta acqua la mia pianta. Quindi, in questo caso, non ne devo più mettere. Ecco, qui abbiamo, in questo caso, il passivo di stato. Vedete? Qualcosa, appunto, che è già innaffiato. Qui non devo più farlo. Zustands Passive in tedesco. E siamo giunti al riepilogo. Abbiamo visto che ci sono due tipi di passivo in tedesco. Il passivo d'azione e il passivo di stato. Il passivo d'azione, Fogans Passive, indica, appunto, un processo, un'azione, mentre il passivo di stato indica una situazione. Si forma con verde, il passivo d'azione, più partecipio passato. Il passivo d'azione in tedesco si chiama Zustands Passive, che indica una situazione, una condizione. Le forme dei verbi sono diversi. Avrò verden più partecipio per il passivo d'azione, devo quindi coniugare verden, più partecipio passato. Avrò quindi wirtgeschlossen, al presente, wurdgeschlossen, al preteritum. Attenzione, al perfect, al pluscanperfect, ist, partecipio con vorden, rispettivamente var, partecipio con vorden. Quindi non è gevorden come per le forme, appunto, del participio di verden, gevorden. Al passivo è sempre vorden. Al futuro, il futuro si forma con wirt, più partecipio, più verden, per quanto riguarda il passivo. Indica qualcosa che avviene nel momento in cui si descrive l'azione, importante quindi la nostra azione, il nostro processo. Adesso, per esempio, una porta, un portone che viene chiuso, in questo caso un portone, quindi da Sturwirtgeschlossen, viene chiuso. Se indico chi fa l'azione, ho il complemento d'agente. Il complemento d'agente può stare solo nel passivo d'azione, ma non nel passivo di stato. Passivo di stato, sein, più partecipio passato. Anche qui avremo una coniugazione diversa, con il verbo essere, coniugò praticamente il verbo essere, is più partecipio, var più partecipio per il preteritum, is gewesen con geschlossen in mezzo, var gewesen con, appunto, il participio in mezzo. E il futuro avremo wird geschlossen sein. Useremo quindi il verbo essere con werden. Anche qui abbiamo il nostro esempio. Abbiamo qualcosa che però è già avvenuto, come vediamo, appunto, la nostra pianta, che, appunto, è già stata innaffiata, ich wollte die Planzengissen, aber sie war schon gegossen. Quindi, in questo caso, è la pioggia, appunto, che ha innaffiato la pianta. Spero di essere stato chiaro in questo argomento molto interessante.